Siamo alla quattordicesima domenica del tempo ordinario. E per spiegare il contenuto, almeno alcuni dei contenuti delle parole del Signore in questa liturgia, ricorro spesso a un esempio per spiegare come noi vediamo la nostra vita e la storia del mondo anche. Non so se ricordate di aver visto forse da qualche parte quei cuscini che hanno una fodera ricamata. Ci sono delle scene di caccia, ci sono dei fiori, ci sono dei paesaggi. Se poi però vedete il verso di questi copri cuscini, vedete che c'è un intrico indecifrabile di fili che non riescono a dare una figura intellegibile. Tanto è vero che dice impossibile che da questo intrico di fili ci sia un qualche cosa di plausibile. Ci sembra impossibile che ci sia qualche cosa appunto che possa avere un significato. Ecco com'è la vita. La nostra vita molto spesso appare come indecifrabile, contorta, ruffata, priva quasi di una intellegibilità. Chi ci aiuterà a vedere il diritto della vita, non il verso? Così da vedere il disegno ordinato, armonioso, sensato, comprensibile. Ecco, Isaia ci dà continuamente una indicazione. A noi non è possibile sentire quella bellezza di cui il profeta parla. Tanto è vero che dice rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia. Non è forse una forzatura pensare la vita con questi termini di esplosione di gioia che a volte sembrerebbe non poterla sperimentare. Che cosa c'è di così allegro in questo maledetto paese per riprendere delle parole che l'innominato dice, vedendo giù nel basso la gioia di un popolo che va incontro al suo pastore perché è venuto a visitarlo. Che cosa c'è di così allegro in questo paese maledetto? Eppure c'è un motivo per ritrovare il senso di letizia della vita. Nel Vangelo di oggi ce lo dice in modo molto chiaro questi 72 discepoli che ritornano dalla loro missione, dice il Vangelo, pieni di gioia. Ricordatevi, dice Gesù, che dovete rallegrarvi non perché riuscite a impadronirvi o in qualche modo a sottomettere i demoni, il male, ma semmai rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo, sono nel cuore del Padre. Ecco la nostra stabilità, la stabilità della vita, qualsiasi cosa possa accadere, è assicurata e custodita perché i nostri nomi, cioè le nostre persone, sono amate e custodite nel cuore del Padre.